a lei dai dai a lei a lei ultimi mille metri solo mille metri brava sesta a lei a lei a lei è dura non riesco a capire perché siete sconvolti sono così fresco a lei forza coraggio dai che finito mille metri solo mille metri potrei variare con go go così almeno dico sempre dai mille metri mille cento metri e finisce la fatica mille cento che mille che ha detto mille cento brava settima lei a lei occhio che c'è dietro questo uomo pericoloso dai per te ne mancano 3 mila antonio alè il vaschetto mia vaschetta genino forza e coraggio sono tutti tutta gente abituata a fare mille metri ultimi mille in scioltezza li dovete fare come bere l'acqua eccolo qui alle robie ultimi mille alle 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 così ale 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 andalo qui sempre più in forma bravo mille metri il 26 26 neanche finita mille metri mille cento metri esattamente se vogliamo essere proprio occhio sergio che ti prendo occhio è un po avanti sergino è un po avanti sergino ale 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 forza coraggio con questi occhiali dovresti andare più forte dai 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 male ale 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 allora lilli adacchi bel uomo ale 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 ecco la simona sempre più in forma in seguita dalla lori alle calcagne attenzione grande lori abbiamo questa fortissima che oggi sono di servizio grazie per il fortissima che non lo è ma comunque va bene adesso l'andrea passa guarda che un chilometro è fatta noi siamo belli freschi tranquilli qualcuno anche era un po sbarionato dai solo 3 kg no 5 kg no forza forza dritti dritti 5 kg no 5 kg no ma più 20 kg no è fatta grazie male solche togliamo la maggiata guarda che il tempo a persona Guarda, guarda cosa fa per me, vai, per il Lumi tutto si può, tutto si può, vai, insieme, guarda, va che bene che si, vai Lumi, vinto supporti ruolo, adesso sto preparando tu, si, vai, l'app 2, è solo l'app 2 con il Lumen, guarda, Ale, Dai Tommy, che ne puoi? La Strongman, la Strongman, la Strongman, cos'è la Strongman? Io devo fare una foto all'arrivo, sì ma Lumi è durissima, ma perché hai detto Lumi? Dai, 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 Ale, 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 Ale è come se avessi uno zaino con su dai 300 metri è finita forza 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 ale 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 dai 300 metri ale forza forza e coraggio te che in palermo alè 300 ne manca 300 dai barbara dai barbara ale 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 e passale passa passa forza e coraggio alè ale marco e te pareva che giuseppe non è semela qualche donna sarah si chiama ah sì grazie che me l'hai detto non lo sapevo giuseppe ma è grande robin ale 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 400 metri dai che è finita tutto all'ombra per le donne bellissimi uomini all'arrivo per gli uomini bellissime donne all'arrivo a rinfrescarvi e con del ghiaccio e le cose fantastiche che alè forza e coraggio ale 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 400 metri è finita guarda con che leggi adria grande dai che è finita 26 e 26 dove sacro monte sacro monte che giorno è giovedì e poi passa di là così mi ricordi ciao dai 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 che è quasi finita ale 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 grazie a tutti Grazie a tutti